Siamo in Corso Vittorio Emanuele, dove prima c'era la biblioteca comunale Ciro Angelillis, a 500 metri dalla Basilica di San Michele Arcangelo, dove verrà il nuovo ostello dei camminatori. In questo immobile, che sarà interamente riqualificato, sono previsti lavori per circa un milione di euro. In seguito a tali lavori, questo immobile avrà una efficienza energetica superiore, verranno installati nuovi dispositivi dal punto di vista elettrico e idrico, così da avere un immobile all'avanguardia per ospitare tutti i camminatori che verranno a Monte Sant'Angelo. E questo ci consentirà di avere un immobile più efficiente, più sicuro e più bello. Da luogo della cultura, luogo della cultura dell'accoglienza. L'ex biblioteca diventerà un ostello sulla via Michaelica, la Francigena del Sud. Accoglieremo i camminatori, così come fa a Monte Sant'Angelo da 1.500 anni. Un ringraziamento particolare alla Regione Puglia e quindi restituiremo alla comunità un luogo caro alla cultura, in vista anche di un grande appuntamento che è il 2024, Monte Sant'Angelo, capitale della cultura dell'illissima Regione Puglia, la città degli Puglia diGG, vero. Grazie a tutti